E quanta gente c'è? Ma il spettacolo! Ovviamente sappiamo tutti che siete venuti per il nostro batterista nudo! Solo noi ce l'abbiamo! Guarda, dopo tanti consigliati faccio fatica ad accettare certe cose qui. Anche io faccio fatica ad accettare. Al profondo e primordiale istinto, non prendetela. Ok! Allora, visto che comunque l'esperienza di The Voice è stata fondamentale, però ci piace riarrangiare un po' le cose, visto che puntiamo a un sound un po' nuovo. A riportare il rock in Italia, ecco! Allora, questo è un classico, però rivisitato giustamente con qualcosa che ci piace. Speriamo che vi piaccia. Speriamo che! Grazie per la visione Sì grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.